La trasformazione educativa è il tema del congresso tenutosi stamattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, organizzato dall'Associazione Maestri di Strada e il Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II, con l'Università Autonoma del Messico. Siamo contentissimi che a Napoli si parli di trasformazione educativa, cioè si rivedano le categorie, i concetti con cui normalmente si affronta il tema della riforma della scuola, guardando sempre e soltanto alle norme, alle leggi, al contenitore, e si parli invece di contenuti e di relazioni. Estendere il dialogo e la cooperazione, favorendo l'incontro tra continenti e discipline, creando uno scambio di esperienze, ricerche e riflessioni educative diverse. Cura, bellezza e sogno. Quindi lavorare nelle fragilità, nei luoghi della devianza, nei luoghi della sofferenza, provando a dimostrare alle persone che hanno difficoltà a scegliere che c'è un'alternativa, che la cultura e la bellezza hanno una forza e una potenza maggiore della violenza e della pistola. E quindi un lavoro che in città facciamo quotidianamente e che Napoli venga scelta per un'iniziativa così importante, di livello internazionale, che ci impegnerà la settimana prossima per tre giorni, è un segno che questa è una città viva, vitale, con sofferenze, con energia, che ha messo al centro la persona, l'umanesimo, l'umanità e poi la città con il maggior numero di bambini d'Europa.